Musica Bentornato Cutler, bentornata Andiamo a vedere una delle ultime opzioni del pannello di controllo Windows Firewall In pratica si tratterà di alzare un muro nel sistema operativo per garantire una maggior sicurezza A cosa serve? È un programma che controlla le informazioni provenienti da una rete bloccandole se necessario o consentendo loro libero accesso al tuo computer Tutto è definito da delle regole impostate dall'utente o dall'amministratore Ciò ha come effetto l'impedimento a terze persone in pratica tramite programmi malevoli sia di accedere al computer sia di inviarli ad altri computer La sua definizione di firewall a riguardo è rappresentato dalla traduzione di muro di fuoco Per completezza un firewall può anche configurarsi come una struttura hardware come lo ha ad esempio un router che ha un firewall integrato quindi può essere una struttura hardware o un programma Come accedi naturalmente in questo caso tramite il pulsante Windows Firewall all'interno del pannello di controllo Nella schermata di presentazione avrai in vista la lista delle reti a cui il tuo PC è connesso o può connettersi e tramite dei colori verde o rosso avrai a vista d'occhio lo stato di attivazione o disattivazione del programma firewall per quella determinata connessione Naturalmente l'interfaccia visiva può essere diversa a seconda delle versioni del sistema operativo o dello stato di attivazione o meno dello stesso Se è presente il colore verde naturalmente è attivo mentre in caso di color rosso dovrai attivarlo con il pulsante che trovi nella lista in alto a sinistra attiva disattiva Windows Firewall Anche un altro pulsante modifica impostazioni di notifica ti presenta lo stesso scenario In pratica cliccandoci sopra potrai accedere a questa finestra a questa schermata con la quale potrai attivare se non è attivo il firewall per la rete pubblica o per la rete aziendale o domestica e potrai anche disattivarlo qualora fosse necessario o tu lo prevedessi per utilizzare altri programmi oppure potrai anche decidere di bloccare tutte le connessioni in ingresso comprese quelle nell'elenco dei programmi consentiti Quest'ultima cosa sarà possibile soltanto se cliccherai su attiva Windows Firewall altrimenti questi due campi saranno inibiti A termine ricordati di cliccare sul pulsante ok per far acquisire le impostazioni Se non ricordi come devono essere impostati i parametri oppure semplicemente vuoi ripristinare le impostazioni predefinite c'è il pulsante relativo sempre sul lato sinistro In pratica con un paio di clic cliccando prima su questo e poi su una conferma ripristinerai le impostazioni predefinite come se avessi appena installato il sistema operativo Un altro pulsante che trovi nella lista di sinistra è Consenti programma o funzionalità con Windows Firewall In questa sezione trovi evidenziata una lista di programmi e funzionalità a cui è consentita o meno la comunicazione attraverso il firewall nelle varie reti Qui è rappresentato uno screenshot di quanto appena detto Hai la lista dei programmi e funzionalità a cui è consentito per una rete domestica azientale o pubblica l'accesso al tuo computer Con un segno di spunta puoi aggiungere o togliere naturalmente la funzionalità e quindi consentire o non consentire i permessi per accedere al tuo computer Inoltre c'è un pulsante Consenti un altro programma e ti permette di aggiungerne un altro se non compare in quella lista in modo da poter ampliare la lista dei programmi a cui consenti l'accesso al tuo computer Infatti ti comparirà il pulsante Sfoglia e tramite esso potrai tramite Esplora Risorse raggiungere l'eseguibile ed inserirlo così nella lista delle comunicazioni consentite Dopo aver selezionato clicca su Aggiungi e comparirà naturalmente nella lista generale Ora potrai consentire così l'accesso alle reti a cui sei connesso inserendo un segno di spunta per ognuna delle reti private, pubbliche o aziendali Consentire l'accesso equivale a permettere al programma di inviare o ricevere informazioni attraverso il firewall Quindi aprirai una breccia verso il tuo computer Ciò può essere sfruttata dai malintenzionati Questo è bene che te lo ricordi Il senso è quindi di aprire questa breccia solo se è necessario per l'utilizzo di quel dato programma in quanto così riduci la sicurezza del tuo PC In seguito cambiassi idea puoi comunque togliere il segno di spunta oppure tramite il pulsante Rimuovi togliere le autorizzazioni a quel dato programma in modo che bloccherai le sue comunicazioni all'interno della rete a cui sei connesso Tornando alle impostazioni principali l'ultimo pulsante da descrivere è Impostazioni avanzate Qui si entra in una sezione per chi ha in sé un po' di conoscenze più elevate Esso infatti è destinato agli amministratori per la gestione della sicurezza di una rete in ambiente aziendale e non a reti domestiche e quindi esula dalla nostra descrizione Il pulsante Risoluzione dei problemi di rete ti consente di eseguire delle procedure per risolvere i problemi di connessione e quindi ti rimando ad una lezione ben dettagliata la 123 con un annesso video nella quale ho spiegato la funzionalità di questa opzione Una nota a margine prima di concludere è da ricollegare alla lezione 104 sul centro connessioni di rete e condivisione e rispettivo video tutorial questo per quel che riguarda la scelta di una rete Ad ogni nuova connessione infatti il sistema operativo reagisce ti chiederà di etichettare il tipo di connessione a cui stai per connetterti I possibili tipi di connessione a cui puoi far connettere il tuo computer sono una rete domestica, una rete aziendale, una rete pubblica e una rete di dominio In base alla scelta che eseguirai alla prima connessione automaticamente verranno impostate dal sistema operativo delle regole per i firewall dedicate e specifiche per quella data connessione Scegliendo quella domestica o aziendale le regole sono, passami il termine, un po' più elastiche in quanto ciò sottintende che gli utenti sono tutti conosciuti In caso di rete pubblica sono più rigide proprio per garantire una maggior sicurezza al tuo pc in quanto a questa rete sono connessi un'infinità di computer Quella di dominio è gestita da amministratore il quale decide su tutte le impostazioni comprese la sicurezza e quindi non riguarda i computer domestici come i nostri Quindi in sintesi, in base alla connessione a cui accede il tuo computer seleziona l'una o l'altro tipo di scelta per le regole relative al firewall Bene, andiamo a vedere un po' di pratica dal pannello di controllo clicchiamo sul pulsante Windows Firewall Naturalmente in questo caso troverai una condizione di Windows Firewall attivo grazie al fatto che hai presenti gli scudi e questo rettangolo di color verde per le reti a cui potenzialmente questo computer sarà connesso ossia reti domestiche o aziendali private oppure rete pubblica Quindi qui puoi vedere ben scritta l'attivazione di questo stato In questo caso potrai naturalmente anche lasciare così però per completezza andiamo a vedere come gestire le impostazioni Quando il firewall è attivo potrai gestire il consenso di programmi e funzionalità tramite il firewall Come puoi vedere in questa lista trovi alcuni dei programmi rappresentati all'interno del sistema operativo a cui è concesso il libero utilizzo del computer durante la connessione sia se il computer fosse connesso ad una rete domestica oppure a una rete pubblica Tu potrai decidere di deselezionare o selezionare l'una o l'altra opzione consentendo queste operazioni Tramite il pulsante dettagli hai una descrizione sommaria di quel che esegue questo programma questa funzionalità Qualora il programma a cui vorrei consentire l'accesso al Windows Firewall non fosse elencato in questa lista potrai sempre aggiungerlo cliccando sul pulsante consenti ad un altro programma Se in questa lista ancora non lo trovi tramite il pulsante sfoglia si aprirà esplora risorse e potrai andarlo ad individuare tramite l'eseguibile all'interno del tuo computer Una volta che avrai deciso il programma sarà sufficiente cliccare sul pulsante aggiungi e lo troverai in questa lista Qualora decidessi di rimuovere il consenso di un determinato programma potrai deselezionare il segno di spunta oppure se attivo cliccare sul pulsante rimuovi a questa conferma rimuoverai in questo caso specifico l'assistenza remota di Windows al computer Torniamo alle funzionalità generali qui puoi modificare le impostazioni di notifica che poi tra l'altro è lo stesso scenario di attiva disattiva Windows Firewall qui puoi disattivare il Firewall completamente qualora magari utilizzassi altri programmi cliccando su ok verranno acquisite queste nuove informazioni e naturalmente il sistema di allerta che potrebbe essere minata la sicurezza naturalmente noi lo riattiviamo potremo anche decidere di attivarlo soltanto per una rete domestica o aziendale ed eventualmente optare per questi segni di spunta o deselezionarli in questo caso tutte le connessioni di ingresso anche quelle incluse nei programmi consentiti che hai visto precedentemente saranno bloccati ed eventualmente aggiungere anche la notifica quando il Firewall blocca un programma così da renderti conto se ciò deriva da una tua azione o un'azione di terze parti ricorda comunque in caso di variazioni di impostazioni clicca sempre sul pulsante ok per acquisire le nuove impostazioni qualora tu dimenticassi come sono impostati i parametri o semplicemente volessi ripristinarli alle impostazioni di fabbriche sarà sufficiente cliccare sul pulsante ripristina predefinite e dopo questo clic e una successiva conferma verrà ripristinata la configurazione standard come abbiamo visto fin dall'inizio il pulsante impostazioni avanzate ti permette di entrare in una zona particolarmente corposa e che normalmente richiede delle conoscenze abbastanza elevate nella guida puoi avere notifica di quanto appena detto in quanto questa sezione è riferita a utenti esperti che vengono impiegati come amministratore di una rete per migliorare la protezione del traffico in ambiente aziendale mentre per l'utente medio per così dire quello domestico dobbiamo far uso semplicemente di Windows Firewall appena descritto qui ci sono delle informazioni standard abbastanza comprensibili che ti indicano lo stato di attivazione o meno del Firewall l'ultima sezione è relativa alla risoluzione dei problemi di rete cliccaci pure sopra qualora si presentassero dei problemi di connessione e tramite delle procedure guidate avrai l'opportunità eventualmente di risolvere problemi di connessione bene con la prossima lezione termineremo finalmente la descrizione dei programmi del pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto